Arriva l'estate, io ti do un consiglio per uno smoothie fresco, ricostituente e anche drenante. Allora, gli ingredienti sono due tazze di anguria tagliate a cubetti, a cui preferibilmente abbiamo tolto la maggior parte dei semi. Poi aggiungiamo un cetriolo sbucciato e tagliato a fette, il succo di mezzo limone, una tazza di acqua di cocco e per concludere qualche fogliolina di menta fresca. Questo smoothie è molto completo perché ha l'anguria che è ricca di antiossidanti, vitamine e aiuta a mantenere l'idratazione del corpo. C'è il cetriolo che aiuta a purificare e a drenare l'organismo, poi c'è il limone anch'esso ricco di moltissimi antiossidanti e troviamo anche una buonissima quantità di vitamina C. L'acqua di cocco poi, oltre ad aiutare l'idratazione, aiuta a mantenere il nostro equilibrio elettrolitico. La menta poi aiuta il sistema digerente e ci dà anche quel sapore rinfrescante che sicuramente non guasta. Ovviamente questo è solo uno degli smoothie che si possono preparare durante il periodo estivo. Se ne conosci e ne utilizzi altri fammelo sapere nei commenti e infine nella caption ti lascio altri due consigli utilissimi per modificare questo smoothie in base alle tue esigenze.